Le domande vanno presentate entro il 31 marzo con una perinizia asseverata da un tecnico che dovrà dimostrare il nesso di casualità con gli avversi agenti atmosferici del gennaio 2017. Sono dei fondi che grazie veramente all'attività incessante del Presidente dell'Anci regionale, del nostro Sindaco Gian Guido d'Alberto e del Commissario della ricostruzione, Commissario Legnini siamo riusciti a recuperare dopo quasi 4 anni, sembravano fondi che sono oramai dimenticati, in realtà questa attività veramente di sensibilizzazione e questa attività da parte del Commissario di vicinanza ai territori ha fatto sì che venissero ritrovati questi fondi che non sono pochi, ma sono 100 milioni di Euro per il solo Abruzzo, ma che potrebbero anche essere di più in relazione a queste attività che abbiamo messo in campo, potrebbero essere danni anche di tipo dissesti idrogeologici come fabbricati, attività lavorative, come pannelli fotovoltaici, come attività che si sono dovute delocalizzare in relazione a quell'evento. Le domande che sono state presentate e che sono già presenti nel Comune dovranno essere ripetute, le domande che saranno ovviamente successivamente trasmesse all'USR per la valutazione della richiesta, se ritenute correttamente formulate e con un nesso di causalità evidente, saranno ricompensate anche delle spese e delle perizie tecniche, per cui far fare la domanda significa non preoccuparsi della spesa che si sta sostenendo nell'immediatezza, ma tecnicamente quelle spese e quei soldi saranno poi rimborsati. Il 31 marzo sembra un periodo molto lontano, in realtà per poter predisporre una pratica di questo tipo che dimostri in modo con atti coevi che il nesso di causalità non è così semplice, per cui chiediamo a tutti i cittadini di svolgere un'attività immediata, quindi di verificare se hanno avuto dei danni e quindi di chiamare i propri tecnici per presentare la domanda entro il 31 marzo.